Ciao a tutti belli e brutti, ben ritenuti in questo nuovo video giornaliero, noterete una novità Allora, in questo video volevo scusarmi veramente per una cosa avevo pronunciato che avrei fatto dei video e tutto ma a volte non riesco a farli come adesso che ho dovuto fare matematica quindi non ho potuto farli e adesso è già tardi, aspettate quando l'ora sono le 10 meno un quarto non so che senso abbia e però penso, non sono sicuro però domani penso che comunque uscirà comunque il video però non è sicuro, quindi penso di sì, ma non è sicuro comunque io faccio i video tutti i giorni il video giornaliero l'ho chiamato più o meno faccio i video tutti i giorni per tenere un po' aggiornato il canale per non mantenerlo sempre vuoto così e poi ringrazio Alfredo che ha guardato i miei video delle magie che ho fatto e lo ringrazio Alfredo ho pensato che mi hai fatto dei commenti che mi sono piaciuti però noi ci vediamo nel prossimo video bella ragazzi